Una buona notizia che servirà almeno parzialmente a dare ossigeno ad una delle categorie più colpite dal disastro economico scatenato dalla pandemia di coronavirus. Arriva dalla giunta regionale che nella giornata di ieri ha approvato la metodologia di calcolo dei rimborsi da destinari ai ristoratori pugliesi penalizzati dall'ordinanza del 7 dicembre scorso. Vale a dire a quelli operanti nei venti comuni tra le province di Foggia, Batte, Murgia-Barese, rimasti in zona arancione quando il resto della regione era passata nella fascia di rischio gialla, non potendo così aprire al pubblico le loro attività. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale nonché presidente del gruppo del Partito Democratico, Filippo Caracciolo, sottolineando come l'approvazione della metodologia di calcolo rappresenti l'ultimo tassello di un percorso di gestione dei ristori già avviato con la ratifica dello schema di convenzione tra la Regione e la Camera di Commercio di Bari e Foggia, a cui sono state poi trasferite le risorse da destinare ai richiedenti. In base al metodo di calcolo approvato dalla Giunta pugliese, fa sapere Caracciolo, alle imprese del settore che nel 2019 hanno accumulato un fatturato di massimo 10.000 euro andrà il 5% di tale volume d'affari. Per fatturati superiori il ristoro andrà dal 20 fino al 40% della differenza di fatturato relativa ai giorni dall'8 al 14 dicembre 2020 rispetto a quanto incassato nello stesso periodo dell'anno precedente. È inoltre specificato che in nessun caso i ristori potranno essere superiori al 10% del fatturato del 2019. In assenza di fatturato, infine, il rimborso sarà pari a 500 euro. Un metodo di calcolo, che se da una parte può essere considerato soddisfacente dagli operatori del settore, dall'altra è comunque inferiore a quanto ipotizzato inizialmente dalla Regione, che aveva preventivato un ristoro pari al 5% del volume d'affari del 2019 per tutti i ristoratori, a prescindere dalla soglia di fatturato. Dovevamo fornire delle risposte certe e tempestive ai ristoratori e a tutti coloro i quali sono stati messi in ginocchio da una crisi senza precedenti, ha commentato in una nota il consigliere Caracciolo. Grazie al dialogo e ad un lavoro sinergico e tempestivo siamo riusciti ad intervenire andando a soddisfare le legittime richieste della categoria. Nessuno deve rimanere indietro.